Fruittati e vigni Fruittati e vigneti con sesti di impianto di varie tipologie, attrezzi innovativi, terreni in pendenza. Le colture speciali richiedono macchine altamente specializzate, con caratteristiche particolari. Same risponde a queste esigenze con la gamma Frutteto serie 2, da 60, 75 e 85 cavalli. Compatti nelle dimensioni, questi trattori hanno il baricentro basso, che insieme alle gomme da 20 pollici è una garanzia di stabilità in tutte le condizioni operative. Un altro punto di forza dei Frutteto serie 2 è la versatilità. Sono a disposizione versioni con o senza cabina, e le tre potenze consentono la scelta più adeguata in relazione alle attrezzature impiegate e alla tipologia del Frutteto. L'uso dell'elettronica semplifica la gestione e assicura una produttività sempre elevata. I motori Same da 60, 75 e 85 cavalli hanno caratteristiche di erogazione particolarmente adatte all'uso agricolo. Per esempio, la riserva di coppia del 25% conferisce al motore una grande elasticità, per superare le variazioni di carico senza inutili cambi marcia. L'utilizzo di attrezzature innovative, come gli atomizzatori a basso volume, richiede una precisa e costante regolazione del regime motore, e quindi della PTO, per assicurare in ogni momento l'esatta distribuzione di prodotto. Per questo i motori dei Frutteto 2 sono regolati elettronicamente. Il comando avviene sia attraverso il pedale, sia attraverso l'innovativo acceleratore manuale, in grado di memorizzare il numero di giri necessario. Le emissioni e i consumi si riducono e il lavoro è più preciso. I Frutteto 2 Same hanno un cambio a tre gamme e quattro marce con inversore sincronizzato. Il Synchro Power, l'innesto elettroidraulico che duplica il numero di velocità senza intervenire sul pedale della frizione e sottocarico, porta le marce utilizzabili nei due sensi di marcia a 24 e permette di adeguare in ogni istante la velocità del trattore alla lavorazione in corso. La velocità massima di 40 km all'ora diminuisce nettamente i tempi di trasporto. L'innesto della doppia trazione e dei differenziali è di tipo elettroidraulico. Le PTO sono a 540.000 giri e il Synchro, con la disponibilità di una 540.000 economica, studiata per garantire il minore sfruttamento del motore e ridurre i consumi di gasolio. Anteriormente, i Frutteto 2 dispongono del gruppo sollevatore e della PTO 1000. Il sollevatore posteriore, con capacità di 3000 kg, è dotato di regolazioni idrauliche sia laterali che verticali, effettuate dal posto guida. La regolazione degli stabilizzatori a comando elettroidraulico permette il controllo laterale dell'attrezzo, mentre la regolazione del tirante idraulico consente di seguire la pendenza del terreno, migliorando il lavoro dell'attrezzatura. L'impianto idraulico, con pompe da 52 litri di portata, dispone di distributori a quattro vie anteriori e a sei vie posteriori. La cabina è spaziosa e facilmente accessibile. La visibilità dall'interno offre il massimo controllo sui sesti di impianto e sugli attrezzi. La strumentazione comprende il check panel e un display a cristalli liquidi per il controllo delle unità operative del trattore. Pressurizzata e climatizzata, la cabina offre una protezione totale durante i trattamenti, con l'ulteriore barriera del filtro a carboni attivi facilmente intercambiabile. Le prolunghe dei parafanghi evitano il danneggiamento dei frutti pendenti. In soli 30 secondi è possibile effettuare l'operazione di inversione del posto guida. Tutti i principali comandi del trattore sono disponibili anche in questa posizione. E' facile mantenere il frutteto 2 in perfetta efficienza. Con pochi e semplici gesti si accede ai principali elementi soggetti alla manutenzione. Same frutteto 2, un lavoro da specialisti.